sapete perché ecopetra di casanova si chiama eco perché è completa è comoda e così sana e costa pure poco questa padella così grande solo 19 euro e 90 e come te sbagli regalata e complimenti l'hai capito pure tu ecopetra è solo da casanova casanova per chi di casa se ne intende e come fai a non comprarla